Un geniaccio in cucina, una ragazza adorabile, deliziosa, quella zuppa è tutta da ripetere, come tutte le sue ricette. Con grande orgoglio vi presento Diletta Secco, eccola qui. Grazie. Questa splendida ragazza che è una star, una vera star in cucina e anche sui social. Due milioni di followers? Sì, in totale. In totale, due milioni di persone che quotidianamente e più di una volta al giorno possiamo darci del tuo, vero? Certo, assolutamente. Seguono la tua capacità di trasformare una conoscenza, una passione, quella per la cucina, però anche conoscenza di Diletta. Piano piano, diciamo, da autodidatta. Sei come Samuele, più fai, più impari. Trasformarlo in un buon uso che si deve fare della materia prima. Per cucinare, della materia prima. Esatto. Detto questo, io ti guardo come si guardano quelle cose. Se ci stringiamo la mano mi passi anche un po' della tua conoscenza. Chi può dirlo? Benissimo. In tutte le case c'è una nonna Maria. La nonna Maria di Diletta è un punto fondamentale. Assolutamente. Assolutamente. Allora, diciamo che mia nonna, io sono cresciuta con mia nonna e con mia mamma. E questo si è cresciuta anche molto bene, vediamo questa foto proprio. Esatto. Questo è amore puro. Esatto. E genitori separati, quindi ho trascorso la maggior parte della mia infanzia con mia nonna. E lei è stata veramente un punto fondamentale per la mia vita e per quella che sono oggi. È stata lei, diciamo, un po' a iniziarmi alla cucina, quindi a insegnarmi che con pochi ingredienti si può tirar fuori veramente qualcosa di bello. E con tutto quello che ho in casa, che non toglie di uscire e di andare a comprare, posso far venire fuori qualcosa di molto, molto, molto buono. Allora, i nonni hanno una pessima abitudine. A un certo punto si trasferiscono da un'altra parte, se ne vanno, no? O almeno ci lasciano su questa terra. E non rimaniamo così male noi nipoti quando questo accade. E una nonna amata, adorata, vedete che quella bambina piccola piccola della foto precedente è poi diventata grande. Ecco, quando nonno è mancata, questo tuo lavoro, lavoro, passione, è diventata anche una forma di dedica per lei? Sì, esatto. Anzi, io posso dire che quando la nonna è venuta a mancare è cambiata completamente la mia vita. Ovviamente è stato un forte trauma per me, appunto, essendoci cresciuta. Però è stato come se la vita mi avesse regalato qualcos'altro. E proprio nel frattempo che è successo, insomma, questa cosa, io ho scoperto la passione per la cucina e, diciamo, è esploso anche lato social questa mia passione. E voglio aggiungerlo questo, perché se no, voglio dire, è persona che sa cucinare perfettamente. Una eccellente capacità di comunicare, questa anche di Letta, una capacità bella, l'avete appena visto, di comunicare come fare quella ricetta. Sì, renderla anche alla portata di tutti, anche perché le ricette che faccio stanno proprio in un minuto di video. Io adoro le tue ricette perché sono genuine, semplici, perché è una cucina prevalentemente vegetariana. Esatto. Ebbene sì, la croccantella a me è riuscita. E credete se è riuscita a me la potete fare tutti, tutti, tutti. E allora chiedo al mio nobile Alessandro Tresa in regia di far vedere queste immagini che la nostra di Letta ci commenterà seduta stante, qui, in studio, perché la croccantella è proprio... Ecco qua, lo vediamo, no? Tu lavori sulle, prima di tutto... Sulla verdura, no? Sulla verdura. Ho scelto una zucca, ho utilizzato una grattugia e l'ho fatta molto fine, ho aggiunto il rosmarino, però insomma, quello va sempre a piacere. E poi la cosa importante è fare questa pastella di acqua e farina, farina 00, sale, aggiungiamo la nostra verdura, rosmarino e poi praticamente è finita, basta metterla in teglia. No, è meravigliosa. In una teglia, io dico sempre il diametro, perché almeno viene bella sottile, sopra farina di mais, ancora rosmarino e un bel giro d'olio, ovviamente, per donare anche un po' di croccantezza e si mette in forno. La cottura è un po' lunga, ma ne vale la pena. Ma ne vale la pena. E questa cosa della farina di mais, che mi ha lasciato senza parole, insomma, alla fine è riuscita, quindi sono stata felicitissima, è la croccantezza che regala. Esatto, dona proprio quella croccantezza, anche quel bel colorito che... Allora, cucinare bene, ovviamente le persone ti fermano per strada, non me, fermano lei, per questa croccantella si chiama, giusto? Tu sei quella della croccantella. Sì, diciamo soprattutto all'inizio, quando avevo lanciato questo trend, si può dire. Questo trend, giustamente. Ecco, questo fatto di poter realizzare presto bene mangiando cose, questo non mi stanco di sottolinearlo, mangiando cose sane, cercando anche di letta il chilometro zero. Assolutamente, sì, sì, sì. Il più possibile. Anche proprio quello che cerco di trasmettere alle persone che mi seguono sono anche i valori, la genuinità, ovviamente, magari faccio vedere che vado al mercato la mattina per prendere, che poi è quello che faccio realmente. Esatto, è quello che fai a tutti i miei. E quindi sì, assolutamente, trasmettere questi valori per me è importante. E lei è anche la donna del freezer, nel senso che l'avrete vista preparare il dado, quello che serve per fare il brodo, e tu fai, giustamente, fai ottimo uso di tutti gli elettrodomestici che noi abbiamo in cucina. Esatto, cerco, diciamo, di massimizzare, ma anche proprio per chi è impegnato tutto il giorno al lavoro, che si ritrova alla sera, che magari vuole mangiare in maniera genuina, magari prepararsi prima il dado in anticipo, senza conservanti, semplicemente verdure e sale, lo mette in congelatore e hai un brodo pronto. Ed è pronto. Esatto. E voi pensate che non abbiamo pensato ai dolci a quest'ora? Ma secondo voi, con diletta secco qui, ma ovviamente. Allora, io leggo un dolce al limone, quello non l'ho ancora fatto, lo dichiaro. Però se tu me lo spieghi, io imparo ancora meglio. Come si fa? Beh, allora, in questo caso sono proprio dei quadrotti al limone. A me piace in generale proprio, ecco, il lemon bars, infatti, ispirarmi alla tradizione e cercare un po' di modificarla. In questo caso, appunto, basta mettere insieme farina e burro, burro abbastanza freddo, e si fa questa base, no? Sì. Le uova, e questo praticamente è l'impasto che metteremo sopra e ancora una volta a cuocere. Quindi è una cosa molto semplice, io questa la uso come un dolce, diciamo, per la merenda, accompagnata al tè, che veramente è esquisito. Ma che ora fai merenda tu che ti raggiungo? Ma tu vivi in un condominio? Scusa la domanda. Allora, io vivo tra la Toscana e Milano. Sì. Milano è un condominio. E un beati condomini. In Toscana invece ha una villetta. Villetta. Ma beati condomini di Milano. Sì, sì, tutti i vicini di casa in generale. E ti vogliono tutti bene, ci credo. Ho stretto molte amicizie. Guarda, no, di tutto perché sei una ragazza adorabile, ma anche perché ha da averla una vicina di casa come te. Sai che profumi per le scale? No, poi fa anche comodo, perché appunto cucinando sempre, insomma, spartire un po' di... Quanto è simpatica lei, perché lei è anche molto, molto, molto simpatica. Allora, essere capaci di trasformare la propria passione attraverso il proprio talento significa diventare persone sempre più, come diletta, sempre più belle, sempre più piene della propria forza e significa anche che tante persone intorno sono assolutamente fiere di lei. Allora, con un poco di zucchero al velo sopra, anche una punta di sale e di limone, madonna, vedete come non so cucinare, insomma, nel migliore dei modi è arrivata una cartolina. Sale con lo zucchero al velo, vabbè, vediamo. No, è colpa mia. Ciao amore, sono qui davanti la tua postazione dove crei ricette e video, postazione che era della nonna che è passata poi a te, visto che come sottolinei sempre la generazione culinare è saltata direttamente dalla nonna a te, chissà quale avrà saltato. Ti volevo dire ancora una volta, te lo dico continuamente, ma te lo volevo dire davanti a tutti di quanto sono fiera di te, della donna che sei diventata, della persona che è cresciuta con tanto impegno, con tanti sacrifici in questo percorso che ti ha portato ad oggi. e sono veramente contenta della tua purezza, della tua semplicità e di tutta la passione che metti in tutte le cose. Ciao. Che bello regalo. La mamma è sempre la mamma, eh. Assolutamente. Anche lei, per lo fondamentale della mia vita, mi ha, devo dire, spronata molto nel seguire questa passione, nel crederci. Ma la domanda è, la mamma sa cucinare? No, diciamo che quando ci si metti... Presto, facciamo un partito io e la mamma, no. È anche brava quando ci si metti, però non è una di quelle cose che proprio la appassionano. Guarda, ne hai una davanti, qualcosina sì, ma non fateci fare troppo. Non ne ho papà, sono quelli che mi hanno... Quelli forti. Che mi hanno trasmesso la passione. Hanno trasmesso la passione. Signore, dovete fare soltanto una cosa, seguire, diletta secco. Dice, ma io non ho i social, ce l'avete un nipote che ha il telefonino, il computer, quello che si vuole, seguire questa ragazza. Perché? Perché è brava, perché sa fare e perché secondo me è uno sprone per tutte le persone che posseggono qualcosa e vogliono realizzare, no? Indipendentemente dalla cucina. Cioè, sei anche capace di dare una buona indicazione per chi... Secondo me c'è un po' quello che ho fatto io e che poi mi ha portato ad oggi qui, poi per carità ci sarà sempre tanta strada, però quello che sono riuscita a costruirmi fino ad oggi è stato perché ci ho creduto. Tu sei bella. Ho investito nelle mie passioni e anche magari quando non ci stava credendo nessuno e è andata bene per fortuna. Oh, direi. Questo è un grande consiglio che vale sia per i più giovani che per tutti. Il tuo sogno? Il mio sogno sicuramente è perseguire questa strada dei social, cercare di farla sempre al meglio e perché no magari un giorno costruire proprio qualcosa di mio, magari un brand, magari insomma riuscire ad essere un'identità indipendente. Ce lo fai sapere? Ve lo farò sapere. Hai già dei tifosoni, oltre ai 2 milioni e anche i tifosoni dell'Ora Solare. Grazie mille, davvero. Diletta, grazie. Diletta, sempre. Brava, 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 bravissima.